La musica sa cambiare Anche il mondo Cari amici di Movido Television, ben trovati Io mi trovo al laboratorio delle arti al monte di Procida per la presentazione del primo lavoro discografico di Maria Cristina La musica dentro me Mi raccomando, seguitemi immagine Eccoci qua cari amici di Movido Television Adesso ad affiancarmi c'è lei, splendida più che mai, Maria Cristina Ciao Buonasera Allora Maria Cristina, noi siamo qui ovviamente per la presentazione per l'inaugurazione del tuo primo lavoro discografico che è appunto questo qui, che si chiama La musica dentro di me Come mai hai deciso di chiamarlo così? È stata una scelta mia e di mio fratello L'ho sentito mio e l'ho deciso questo Perfetto, cosa credi che a 16 anni hai già comunque inciso il primo lavoro discografico? Cosa ti auguri per questo? Mi auguro di andare sempre avanti e di avere una lunga carriera e beh, che dire, sono molto fortunata perché a 16 anni non tutti hanno la possibilità di avere un primo lavoro discografico e devo dire grazie ai miei genitori che me l'hanno permesso Certo, io poi so che il tuo genere non è napoletano ma le tue canzoni sono assolutamente tutte in italiano, giusto? Sì, sì Come mai? Non sento mie le canzoni napoletane A chi è dedicato questo CD? Perché io so che ho una dedica speciale da fare, giusto? A mia nonna che da poco è venuto a mancare La musica dentro di me, questo è il nuovo CD di Maria Cristina Meraviglioso, bellissima tu poi devo dire perché sei davvero stupenda Grazie, grazie Una bella ragazza Lei è molto molto timida però quando canta, è anche piccolina perché tu quanti anni hai? 16 Lei ha 16 anni, è molto piccola però quando canta posso garantirle che diventa molto molto grande perché è bravissima e dà tutta l'energia, la forza e la carica che le persone vogliono sentire In bocca al lupo Maria Cristina Crepi Ok, salutiamo gli amici di Movita Television Ciao 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 So che rubava i giorni miei, recitavi con me Hai dato tutto di te a lei Che non sa niente di me, di noi Non ci avrei scommesso mai Scoprire quello che sei Di un mal che effetto mi fa Ti dividevi a metà I momenti passati con te Regalavi a lei dopo di me Lasciarti così E sentire che ti ha il cuore a piedi E quel male che non puoi riprenderti Non puoi sempre morire E sentire il dolore Che sta con il mio cuore a me Neanche il tempo volendo procederà Tutti i libidi dentro a questa realtà E a quella stessa Ti mancherà Ti mancherà Ti mancherà Perché vivere solo con te Vorrei darti tutto di me Anche quest'anima perché Voglia di amare Fammi volare Dove non c'è più limite Con le stelle briderai Mentre mi accarezzerai Con un fascio di luce Che ci avvolgerà Vorrei vivere dentro di te Voglio tutto insieme a te Dammi il tuo amore Fammi sognare Perché è vero che pure da svegli Sognare si può Grande, grandissimo, strepitoso, meraviglioso Franco Calone Ciao, buonasera Tutti a posto? Noi benissimo Ti parliamo qua? Fatemi sapere Noi siamo delle telecamere di Movida Television Ah, benissimo L'amico mio, Lucio Ciao Lucio Tutti a posto? Allora, sì Franco, noi siamo bene Speriamo anche tu Ti troviamo in gran forma E allora Noi ti chiediamo subito Che sei qui ospite Per la presentazione del CD di Maria Cristina Sì, questa è una mia, no creatura Perché è una mia scoperta Siamo qua proprio per onorarla Certo, ultima battuta Franco, cosa auguri a Maria Cristina? Maria Cristina meriterebbe altre piazze Non solo di matrimoni e feste di piazza Lucio lo sa benissimo Perché meriterebbe Per lo meno il minimo Una X Factor Perché è brava Salutiamo tutti gli amici di Movida, Franco Ciao Bacio da parte mia Bacio Restare ferma qui Ad aspettare Non fermi a niente Voglio questo amore Ti amo come noi Non andrò mai Tu non potrai capire Ciò che sei Non lascerò di tutto Vada via Ponteci mettere la vita mia Per avverti E stare ferma qui Così non vale Non cercherò di farti innamorare E da chi mi vuole Dimmi di più Senza di te Non so come Farò Al mondo in te Lo vorrei Vivere Che dentro Questo cuore Ci sei tu Quanto è bella Silvia Corato Grazie Buonasera Anche tu sei bella Grazie, grazie Con chi parliamo? Noi siamo di Movida Television Ah Movida Television Abbraccio Un salutone forte A tutti i telespettatori Di Movida Television Television Di Lucio? Di Lucio Ciao Lucio Allora Silvia Anche tu stasera ospite Per l'inaugurazione Del CD di Maria Cristina Una ragazza bravissima Canta bene Gli auguro tutto il bene del mondo Perché è una ragazza che merita Veramente Auguriamo a Maria Cristina Il meglio, giusto? Ciao Maria Cristina Augurissimi La musica sa cambiare A che mondo il rumore speciale Che emozioni sa farti toccare Nel momento che devi capire Le stradati di più baggiare Dei ricordi più belli del cuore Dentro gli altri più fatti d'amore Tra le note ci puoi camminare Senza mai più paure E ti rispetterà E ti rispetterà Quanto male si sta Giallo for fluorescente Dopo la andiamo a cantare Le auguro tutto quello che auguro per me Tanta fortuna e tanto successo Ma com'è Maria Cristina è brava È brava e bella Ecco è più di questo Allora salutiamo tutti gli amici Come te E ti rispetterà 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 Vorrei farti capire Che non cambierai Anche il mondo Non credo se tu non ci sei Vuol durare in eterno Sei questo che vuoi La musica sa cambiare Anche il mondo In un modo speciale Di emozioni Sa fatti scoppiare Nel momento Che devi capire Lei sa dati di più Fa viaggio Siamo arrivati al momento finale Di questa gran bella serata Dell'inaugurazione Decidì Maria Cristina E non potevano mancare Fuochi pirotecnici Meravigliosi Proprio come è meravigliosa La voce di Maria Cristina Mi raccomando Le date sempre con noi Come vi da television Da Anna Saraglione È tutto Baccioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti